il caffè latte per la colazione di vittorio domani mattina e queste anima nera giusto luisa ecco ancora un po si sta tanto non se ne accorge mescola mescola il raggirlo col dito aspetta che il raggirlo col dito assaggio con il dito chi vuole assaggiare assaggio mi sembra anche la pastiglia la diarrea veramente no il raggirlo è benissimo pochissimo però caga benissimo mangio lui eh hai visto la sicurezza in burguesa il bicchiere senza un po di tutto ormai senza un po di tutto caffè latte senza di caffè latte allora ancora mi muore di vittor un po di graffino bov buona etichetta wow ecco un po di strano lada qua erbosa mi muore di vittor dai poi lo vedi come canta l'uette domani no no basta ok ricky ai fornelli ma che avevo tutte queste idee ma che avevo tutte queste idee ma che l'ha messo? ma che l'ha messo? e fa cancellare le mie protezioni io mi crei un po di pane anche le mie protezioni quelle tozze dopo aver condito il caffè di andrea i capelli di andrea i capelli di andrea non me la date no che schifo le hai preso a liveo i capelli di andrea ha preso a liveo i capelli di andrea i capelli di luizio conditi sono conditi che tipo io la vado prima c'è più e cos'è? il carzanello